buonasera benvenuti a sabato dinner dance alex angioletti in piazzetta ma in compagnia di chi delle ragazze della bassa veronese ciao ragazze della bassa veronese andiamo a intervistare mister davis e mi inquadri la bambina la babbina e la bambina che schifo oh mamma mia direttamente dal film di fantozzi stiamo scherzando eravamo d'accordo perché sennò mi dava veramente un calcio maia che dolore nei paesi olandesi ciao come ti chiami jessica sei sicura è vero che prima che arrivassi qui al commento era ancora più brutta no 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 devi dire solamente la verità come riconciata dai dillo aveva tutto il rossetto sbavato e poi aveva anche poi aveva i baffi anche no mi sembra di no quelle dell'elevatore sì e visto allora eri tu perché gira una foto identificativa detto non fate entrare questa ragazza davvero ti giuro prego no rimanga la nostra jessica che si sposa con marco marco da dove arriva marco bovolone bovolone bassa veronese bassa veronese in provincia di bassa l'ignoranza non lo stato pure dopo quanti anni jessica 11 applauso qua 11 anni sempre con la luce spenta per non vederti in viso questo è pesante però lo vogliamo bene stiamo esagerando stiamo jessica come l'hai convinto dopo 11 anni ce l'ho fatta dopo è una missione ragazzi il missimo un possible ma in quale con quale condizione l'hai incastrato quale sono state le c'è un curioso in modo semplice dai e poi 11 anni dopo 11 anni capito in modo semplice è il mio compleanno era il suo compleanno che il 24 febbraio 24 febbraio e quindi e quindi mi ha chiesto appunto in modo molto ma diciamo che marco era convinto di chiedertelo non è che tu ci sia riuscita no no era lui lui convinto lui ecco importante alla complimenti marco un applauso a marco bravo marco di aver scelto bene no fatti vedere che sei carinissima vieni a parte poverina sì guarda un giro guarda di palestra wow guarda noi ci siamo fermati qui alle scritte fondamentali della vita selfie con un sconosciuto se ha fatto tutto quante regole questo solo questo allora direte sì dove quando il 24 giugno a bovolone pensavo il 24 febbraio sembrava molto originale quella data lì 24 giugno a bovolone mi raccomando tutti vi arrivate con i cornetti perché lì si mangiano i bomboloni battuta scarsissima allora e vuoi salutare qualcuno e saluto marco dove è marco adesso è a pisa sicuro che a pisa sì come fai a dillo che sì mi fido è lì il problema bisogna dai ti ha mandato la localizzazione di un amico su whatsapp dicendo che a pisa no non mi ha neanche mandato la localizzazione niente neanche una fotografia storta no allora non è a pisa grazie allora salutiamo perché il tempo ovviamente è tiranno noi salutiamo jessica arriva da bovolone verona bassa e tutte le amiche che in questo momento sono qui a festeggiarle 3 2 1